Ciao, sono Dario di Alternativa Linux e oggi vediamo temi, applet, desklet ed estensioni. Caratterizzano il desktop di Linux Mint, interamente riscritto nel 2020, più leggero e stabile che mai e tutt'altro che misero. Vediamo le possibilità di personalizzazione. Lo dico in apertura. Dalla pagina principale del canale trovi diverse playlist organizzate sui video già pubblicati su Linux Mint che considero tutt'altro che superati. Iscriviti al canale e attiva le notifiche per sapere quando ci sono novità. Se non lo conosci, c'è anche un blog con un ricco manuale d'uso e alcuni testi pubblicati e in corso di pubblicazione. I link sono nella descrizione. Parliamo quindi delle possibilità di personalizzazione dell'aspetto e del comportamento del desktop di Linux Mint Cinnamon. Argumento forse di contorno, ma non trascurabile, specie per far conoscere meglio questo apprezzato sistema operativo open source. Se infatti ancora non l'hai provato, e mi domando come sia possibile, ma anche se lo usi con soddisfazione e non hai ancora approfondito questi aspetti, potresti trovare il video interessante. Non meno di un'esplorazione del sito ufficiale delle cosiddette spezie di Cinnamon su cinnamon-spices.linuxmint.com La finestra di benvenuto che ti accoglie a fine installazione di Linux Mint, tra i primi passi, suggerisce anzitutto una personalizzazione dei colori o l'adozione di un tema scuro, alternativo a quello predefinito. Puoi anche selezionare uno stile del pannello, la barra inferiore, tradizionale, più simile a quella di versioni precedenti di Windows, piuttosto che quella moderna, in stile Windows 7 e successivi. Perché un sistema operativo alternativo a Windows non deve neppure somigliargli e costringerti a imparare qualcosa di diverso? Puoi concentrarti sul software e risparmiare fatica, con un aspetto già familiare ed intuitivo. La finestra di benvenuto non esaurisce le possibilità di intervento sull'aspetto di Linux Mint Cinnamon. Apri l'opzione Temi nel menu sotto Preferenze e puoi modificare singoli componenti per creare combinazioni in uno stile unico. Spostati nella scheda Aggiungi rimuovi e scoprirai decine di temi realizzati ed aggiornati da appassionati utenti della comunità di Linux Mint. Scarica ne uno e i relativi componenti si aggiungono agli altri, consentendo di ottenere un aspetto uniforme o ulteriori combinazioni. Sarebbe insensato descriverli tutti, ma nel sito ufficiale puoi verificare schermate dei più popolari o elencare quelli più aggiornati, prima di scaricarne uno e verificare di persona l'aspetto. Da qui puoi anche scaricarli, ma è più rapido provvedere dall'interno del sistema. Nella parte destra del pannello di Cinnamon sono raccolte le applet di Linux Mint, icone informative e di accesso rapido a programmi e tante impostazioni. Accedi al calendario e alle impostazioni dell'orologio, allo stato di aggiornamento del sistema e relative impostazioni, controlli l'audio in riproduzione e accedi alle impostazioni audio, alle stampanti e tante altre. Per le impostazioni delle applet, clicca con il pulsante destro sulla parte centrale del pannello e seleziona Applet, oppure digita Applet nel menu e premi Invio. Alcune non sono rimovibili, come indicato dal lucchetto a lato. Cliccando sull'icona con gli ingranaggi si interviene su eventuali impostazioni. Le applet si attivano con il pulsante più nella parte inferiore della finestra e con il meno si rimuovono. Ve ne sono molte anche scaricabili. Non sono realizzate dal team di Mint, ma comunque verificate. Passa dalla scheda gestione a quella scarica. Selezionane una con la freccia in basso, torna su gestione e attivala con il più. Per una comoda consultazione delle applet disponibili o se non hai ancora installato Linux Mint, consulta il sito ufficiale. Partendo dalle Applet preinstallate e attive, segnalo anzitutto come modificare la visualizzazione dell'orologio per mostrare anche la data su due righe come in Windows. Clicca con il pulsante destro sull'orologio, su Configura e poi utilizza un formato della data personalizzato. Scrivi percentuale R maiuscolo, percentuale N, percentuale X nell'apposito campo. Aggiungi due punti percentuale S dopo la R per visualizzare anche i secondi. Dalla configurazione raggiungi anche una pagina, che consente di personalizzare ulteriormente il formato di data e ora. Tra le applet installate ma non attive è molto utile Cambio spazio di lavoro, che pone quattro pulsanti nel pannello per un'anteprima del contenuto e per spostarsi con un click tra i desktop virtuali di Linux Mint. Oppure c'è Expo, che mostra un'anteprima a tutto schermo delle aree di lavoro e consente lo spostamento. Non così utile quando sai che con CTRL più ALT più freccia in alto ottieni lo stesso risultato. Delle aree di lavoro parlo nel ricco manuale d'uso di Linux Mint 20 di cui ti consiglio di prendere nota se ancora non lo conosci. C'è poi Cestino se non vuoi usare l'icona desktop e per finire tastiera su schermo, soluzione predefinita e funzionale per l'uso su touchscreen e altri casi. Tra le prime applet non ufficiali scaricabili che mi sento di segnalare ci sono SIN a Menu, un menu alternativo a quello predefinito con un'infinità di opzioni, tra cui una visualizzazione a griglia, ricerche web su vari motori o nella cronologia e tante altre. E SIN 7 Stark Menu, che imita il menu di Windows 7 o dell'ambiente Mate e prevede a sua volta ricerche web e tantissime opzioni. Se vuoi sostituire il menu predefinito con uno di questi, dopo averlo attivato, clicca con il pulsante destro in una zona libera del pannello e attiva la modalità modifica pannello. Trascina il nuovo menu sul lato sinistro, disattiva la modalità di modifica e rimuovi temporaneamente il menu predefinito con un clic del pulsante destro e Rimuovi Menu. L'operazione non lo disinstalla ovviamente, puoi riattivare il menu predefinito quando vuoi dalla finestra di gestione. L'applet indicatore dei tasti di blocco è assai leggera e aggiunge al pannello la visualizzazione dello stato di blocco maiuscole, del tastierino numerico e del blocco scorrimento e consente di impostare notifiche desktop a comparsa in caso di variazioni. L'applet Meteo è molto ben fatta e ricca di possibilità di personalizzazione. Funziona bene, è sobria e discreta ed in linea con l'aspetto di Linux Mint. Consente di impostare molteplici località indicando le coordinate precise. Mentre lavori noti il simbolo della situazione attuale e la temperatura e con un clic visualizzi maggiori dettagli e la previsione per i giorni successivi. Può mostrare anche previsioni orarie per la giornata in corso. Il servizio di monitoraggio e previsione è fornito da Open Weather Map. Radio++ è una piacevole scoperta fatta per la realizzazione di questo video. Sono appassionato di diverse stazioni radio e internet e questa applet essenziale integra un browser e motore di ricerca tra le decine di migliaia di stazioni di radiobrowser.info. Ho trovato in un attimo le mie stazioni preferite e le ho aggiunte all'elenco personale. Mostra artista e titolo, consente di tenere traccia dei brani apprezzati ed integra un sistema di scaricamento del brano. Conosci il Redshift preinstallato in Linux Mint nel menu accessori? Serve ad aumentare la temperatura colore del monitor nelle ore serali per tagliare i toni freddi che possono disturbare i ritmi del sonno. Con l'applet QRedshift puoi modificare orari di attivazione del filtro di luce blu, oltre ad intervenire su luminosità, gamma e temperatura colore in modalità grafica da una sola finestra. Si tratta di un applet per cui sono segnalati potenziali problemi di compatibilità. Se riscontri sfarfallii o animalie di colore al desktop, prova a disattivarla e riavvia Cinnamon con la combinazione di tasti CTRL-ALT-ESC. L'applet Timer with Notifications consente di impostare un conto alla rovescia, di tenere traccia dello scorrimento del tempo e di ricevere notifiche visive e sonore alla scadenza. Molte sono le opzioni di personalizzazione. Gli sviluppatori appassionati di Linux Mint si sbizzarriscono sulla realizzazione di applet. Ce ne sono tante per il monitoraggio in tempo reale dell'impiego di risorse, sulla temperatura della CPU, sulla velocità di traffico di rete. Ne ho verificate alcune tra le più popolari, ma sono spesso segnalate come potenzialmente compromettenti la stabilità del desktop. Visto poi il ridotto spazio a disposizione nel pannello delle applet, preferisco segnalare più avanti un paio di desklet per queste esigenze. Altre applet sono interessanti per grafici, sviluppatori, sistemisti o per gestire al meglio la cronologia di copia in colla, per trasformare un testo in QR code solo per citarne alcune. Puoi approfondirle in autonomia. Ma se non ti servono continuamente durante le sessioni di Linux Mint, meglio non far loro ingombrare lo spazio del pannello e soprattutto la memoria RAM, quando puoi avviare, solo al bisogno, applicazioni che soddisfano le medesime esigenze. I desklet di Linux Mint sono piccole applicazioni per il desktop Cinnamon. Sono l'equivalente dei widget di Windows e altre distribuzioni GNU Linux. Consentono principalmente di mostrare sulla scrivania vari tipi di orologio, calendari, meteo, informazioni in tempo reale sul sistema ed altre di vario genere scaricabili da internet. Accedi alla gestione dei desklet con un click del pulsante destro sul desktop e aggiungi desklet, oppure aprendo il menu, digitando desk e premendo invio. Noti subito che quelli realizzati dal team di Mint e preinstallati sono solo tre. Non sono attivi ma non possono essere disinstallati. Quando sono previste impostazioni di configurazione, un'icona a forma di ingranaggi diventa cliccabile. I desklet si attivano con il pulsante più nella parte inferiore della finestra e con il meno si rimuovono. Oppure con un click del pulsante destro sul desklet e su Rimuovi questo desklet. Cliccando sulla X le disinstalli definitivamente. Il primo dei desklet di sistema è Cornice foto digitale. Uno slideshow personalizzabile nella dimensione e nei tempi di rotazione che pesca immagini da una cartella definita e può riprodurle sequenzialmente o in ordine casuale. Non cambia certo la vita. C'è poi un orologio digitale essenziale, adattabile e personalizzabile per dimensioni e formati di data e ora. E anche per questo non c'è da strapparsi i capelli per lo stufore. Infine è previsto il desklet avviatore. Questo posiziona sul desktop un'icona per aprire le impostazioni di sistema. Con un click del pulsante destro puoi modificare il comportamento perché lanci un altro programma o uno script bash. Di cosa sia uno script bash ho parlato in Il Terminale di Linux, Introduzione alla Shell. Il lanciatore è molto interessante, specie se lo gestisci con un click del pulsante destro sul desktop, poi crea un nuovo lanciatore qui. Non tanto per creare sul desktop l'icona di un programma o una impostazione di sistema, perché puoi farlo più rapidamente dal menu con un click del pulsante destro e aggiungi al desktop. Più che altro può essere utile per creare in modalità grafica, nel menu e nel desktop, l'icona di programmi scaricati in formato AppImage che non lo prevedono perché non sono effettivamente installati. Ne ho parlato in Verificare e installare programmi in Linux. Supponiamo di volere Inkscape, l'Adobe Illustrator del mondo libero, senza installare una versione non proprio recente dai repository ufficiali né la versione Flatpak, che scarica tantissimi dati. Si può scaricare la versione AppImage da 120 MB. Autorizzata l'esecuzione del file come programma, un AppImage si apre, ma non la trovi nel menu e non puoi aggiungerne l'icona sul desktop. Crea un lanciatore, metti il nome, clicca sul missile per cercare un'icona appropriata, sfoglia fino a selezionare il file, indica se vuoi un commento e viene creata un'icona sul desktop. Viene inoltre creata nel menu una categoria altro in cui trovarlo. Può essere utile modificare la posizione di un AppImage nel menu. Descrivo come fare anche nel manuale d'uso di Linux Mint 20 nel blog. Accedi alla configurazione del menu con il clic destro sul pulsante, su Configura e nella scheda Menu dal pulsante apri l'editor del menu. Entra nella categoria altro, seleziona il programma, taglia, poi seleziona la categoria di destinazione e incolla. Voilà. Ecco il lanciatore del programma AppImage nella categoria in cui deve stare. Come ho detto il lanciatore funziona anche per script o singoli comandi shell che vuoi eseguire con un clic invece che copiando il testo da un file o digitandoli in un terminale. Lasciamo i tre Desklet preinstallati e lanciamoci nella scheda scarica della finestra di gestione. Se ne selezioni uno e clicchi sull'icona a forma di lampadina, il browser predefinito si apre sulla pagina ufficiale del Desklet. Ci trovi schermate, leggi o lasci commenti, ma è più facile scaricarli ed installarli da questa finestra. Al momento sono una cinquantina. Sono realizzati da sviluppatori della comunità di Linux Mint, ma forse un po' fuori moda e tramontati, anche se spesso abbastanza aggiornati. Per alcuni, dopo l'installazione, un avviso spiega che contengono istruzioni non in sintonia con l'attuale versione di Cinnamon, e infatti sono riusciti nel mandarmelo in crash e non mi succedeva da Linux Mint 19. Tra i Desklet più interessanti per tenere sempre sotto controllo informazioni sulle condizioni del sistema, segnalo spazio su disco. Se ne aggiungi uno al desktop, il grafico circolare, modificabile con temi e per dimensione, mostra la percentuale di spazio usato della tua partizione di sistema Linux, ma anche l'ingombro effettivo e lo spazio totale. Ma puoi modificare le impostazioni per monitorare una partizione differente, oppure la memoria RAM o la dimensione del file di swap. Ho parlato dello swap in rendere Linux Mint più veloce. Puoi assegnare al click sul Desklet azioni come l'apertura del file manager, dell'utilità dischi o del monitor di sistema. Ma la cosa più interessante è che puoi aggiungerne al desktop più di uno, ciascuno modificabile indipendentemente con un click del pulsante destro, in modo da tenere sotto controllo molteplici informazioni allo stesso tempo. Allo stesso modo puoi rimuoverli singolarmente. Un Desklet simile, minimo e solo testuale ma assai utile è Simple System Monitor, tradotto in monitor di sistema semplice. In forma grafica e con poco ingombro mostra la percentuale di CPU e la quantità di RAM impegnate, la velocità del traffico in entrata e uscita e la temperatura della CPU. Se quest'ultimo dato resta sempre fisso a 27.9 gradi Celsius, apri il file manager nella tua home, abilita la visualizzazione del file nascosti dal menu visualizza o con CTRL più H, poi entra in .local, share, cinnamon, desklets. Entra nella cartella di Simple System Monitor ed apri il file di testo metadata JSON. Nella riga del parametro thermal file trovi impostato un percorso alle periferiche virtuali e dal monitoraggio termico, indicato come Thermal Zone 0. Modifica in Thermal Zone 1, salva e riavvia cinnamon con CTRL ALT ESC e vedi se risolvi. Se hai un errore, prova con Thermal Zone 2, salva e riavvia cinnamon. Tra i Desklet per data, ora e calendario, segnalo calendario Desklet con diverse possibilità di personalizzazione. Anche questo non cambia la vita. Il nuovo calendario di Linux Mint 20.3 lo apri con un click dall'orologio e mostra gli impegni sincronizzati da diversi calendari, anche se il desktop è pieno di finestre aperte. Un Desklet o orologio a me torna utile quando non sono al computer, non è ancora partito lo screensaver e da lontano non riesco a leggere quello di sistema. Segnalo Clocktao Desklet che va preso com'è, o data e ora Desklet di Night Flame che personalizzo in formato, dimensioni e colori e potresti aver visto in alcuni miei video. Oppure cronometro analogico che permette di usare un'immagine personalizzata come sfondo. Forse il più simpatico degli orologi analogici da scrivania, per i suoi temi, è Kobe Analog Clock. Tra quelli in stile radiosveglia segnalo il Desklet Seven Segments Digital Clock che, malgrado la semplicità, dispone di tante opzioni di personalizzazione per i caratteri, colore, dimensione ed effetti vari. Se segui i mercati finanziari, segnalo il Desklet Quotazioni Yahoo Finance in cui personalizzare un elenco di simboli e ticker, di indici, titoli, beni e valute e personalizzare aspetto, opzioni di aggiornamento e altre informazioni che Yahoo mette a disposizione senza necessità di registrarsi. Un simpatico Desklet musicale è Soundbox che mostra impostazioni audio e controlli multimediali per controllare i programmi che stanno riproducendo audio. Si integra infatti anche con la riproduzione di audio e video dai siti web di streaming, con Firefox e i browser basati su Chromium come Brave. Soundbox mostra copertine incorporate nei file e prevede diversi temi per modificare l'aspetto. Per concludere con le mie segnalazioni sui Desklet c'è Mintoo che raggruppa in un unico widget i comandi per il blocco dello schermo, il termine della sessione, il riavvio e lo spegnimento. Arriviamo alle estensioni e sono meno entusiasta di prima. Non aggiungono utilità ma solo effetti di gusto discutibile, talvolta neppure più compatibili con l'attuale versione di Linux Mint, creano più problemi che stupore per effetti speciali. Puoi rendere trasparente la barra del pannello, le finestre gommose come quelle di Zorin OS o cambiare area di lavoro con un effetto 3D. Io non credo che Linux Mint sia il sistema operativo adatto a questo genere di cose. Linux Mint ed il suo desktop non sono fatti per stupire, ma per fornire un aspetto essenziale, sobrio, gradevole, personalizzabile e senza troppe distrazioni, che si adatti bene a computer anche di diversi anni di età con 4 GB di RAM o anche meno. Mi sento solo di segnalare l'estensione per l'auto-tiling delle finestre, che consente il riarrangiamento delle finestre aperte per disporle tutte sullo schermo secondo diversi criteri. Funziona discretamente. Se ti è più congeniale un aspetto simile a quello di un desktop Mac, apri l'opzione finestre nel menu sotto preferenze, sposta i controlli delle finestre a sinistra e installa da gestore applicazioni una dock da sostituire al pannello e al menu di Linux Mint. Io consiglio Plank. Altrimenti CairoDock è piuttosto invadente ma prevede una quantità di opzioni addirittura esagerata. Per provare queste dock prima di disattivare il pannello di Cinnamon, clicca con il pulsante destro sul pannello stesso, su Impostazioni del pannello e attiva la scomparsa automatica. Riuscirai ad usare CairoDock Plank aprendo il pannello solo al bisogno spostando la freccia nel punto più basso del desktop. Per Plank, una volta avviato, con il tasto CTRL e un click del pulsante destro, accedi alle preferenze. Puoi modificare Aspetto, Posizione, Comportamento, attivare Animazioni e aggiungere immediatamente il Docklet per poter aprire tutti i programmi di Linux Mint con un click del pulsante destro senza il menu di Cinnamon. Anche in CairoDock si accede alle preferenze con CTRL e un click del pulsante destro. Anche solo consultarle tutte è un impegno non da poco. L'ho usato poco e con Linux Mint 20.3 Cinnamon mi ha andato in crash dopo un minuto consultando l'aiuto. Ti avviso poi che la disinstallazione di CairoDock non rimuove i tanti plug-in che installa automaticamente. Per rimuovere tutto puoi usare da terminale il comando sudo apt purge cairo-doc asterisco oppure in gestore pacchetti cercare tutto ciò che corrisponde a Cairo-doc, marcarlo per la rimozione e poi su Applica per disinstallare. Se vuoi usare stabilmente Plank o CairoDock dovrai inserirli tra le applicazioni che si avviano insieme al sistema per non lanciarli ogni volta. Apri il menu, digita avvio e premi invio. E con il segno più in fondo alla finestra aggiungi la tua dock. Per rimuovere il pannello, il menu di Cinnamon e le applet clicca con il pulsante destro proprio sul pannello e rimuovi. Ti chiede una doppia conferma per la rimozione di tutto. Per riattivarlo digita in una finestra di terminale Cinnamon Trantino Settings Panel e clicca su Aggiungi nuovo pannello per poi rimetterlo in posizione. In Cairo, da Preferenze Altro, puoi accedere all'opzione Pannello senza terminale. Se qualcosa ancora non va nel pannello dopo il ripristino, clicca destro su di esso, Risoluzione dei problemi e Ripristina le impostazioni predefinite. Non l'ho ancora fatto, ma consiglio di ricorrere a Desklet, Applet ed estensioni senza esagerare. Oltre a richiedere una quantità di RAM maggiore rispetto alle impostazioni predefinite di Linux Mint, queste possono influire negativamente sulla stabilità del desktop. Sono comunque verificate dal team e all'occorrenza vengono segnalati potenziali rischi di conflitti con l'ambiente desktop. In ogni caso, a partire da Linux Mint 20.2 è stato introdotto un meccanismo di controllo per evitare che difetti di programmazione finiscano per esaurire la memoria RAM. Il limite di memoria RAM che il desktop può impegnare è personalizzabile. Al superamento della soglia, il desktop viene riavviato pur senza alcuna perdita di informazioni o chiusura delle applicazioni aperte. Il team di Linux Mint sta lavorando per rendere il desktop Cinnamon più performante, stabile e aggiornato con modifiche importanti alla versione che sarà rilasciata con Linux Mint 21 Vanessa. Non so quanto potranno influire sull'immediata compatibilità di Applet e Desklet aggiuntivi, ma non è detto che sarebbe un problema duraturo. Nel frattempo, buona personalizzazione del desktop Cinnamon, grazie per il tuo tempo e viva Linux Mint! Ciao!